Grazie a una stretta sinergia tra la polizia giudiziaria, la polizia scientifica e della polizia giudiziaria, la squadra mobile e il servizio centrale operativo di Roma è stato possibile giungere all'individuazione di uno dei responsabili dell'omicidio di Francesco Fiorillo, avvenuto il 15 dicembre del 2015. Nella mattina odierna infatti abbiamo arrestato Antonio Zuliani, poiché si è avuta una compatibilità piena tra il suo profilo genetico e il profilo genetico che è stato rinvenuto sui guanti trovati nell'immediatezza dei fatti lungo la via di fuga utilizzata dai killer. Dato particolare è che oltre al profilo biologico all'interno di questi guanti vi erano anche delle tracce di polvere da sparo e oltre poi a questi accertamenti scientifici un ulteriore dato che è andato ad acclarare e a collocare Zuliani sulla scena del crimine è stata sicuramente l'analisi delle celle telefoniche che ha permesso di collocare in orari compatibili con l'omicidio il numero di telefoni in uso ad Antonio Zuliani all'epoca del 2015. Le indagini non sono finite e continuano al fine dell'individuazione del complice che noi riteniamo abbia agito con Zuliani in considerazione del fatto che in serie di sopralluogo furono repertati diversi bossoli di diverso calibro e anche per meglio delineare il possibile movente dell'omicidio. In questa prima tranche dell'operazione abbiamo avuto un risultato brillante che è stato il risultato di una sinergia tra i professionisti della squadra mobile Vibo Valencia e la cosiddetta unità delitti insoluti. L'unità delitti insoluti è un ufficio, un organismo collocato all'interno della direzione centrale anticrimie che è composto da personale specializzato del servizio centrale operativo, quindi specializzato in omicidi e personale specializzato del servizio polizia scientifica. Quindi questi operatori insieme con gli operatori della squadra mobile di Vibo Valencia sono intervenuti e poi quando c'è stato il ritrovamento della traccia biologica all'interno del guanto c'è stata poi la possibilità di vagliare quella che era la pista investigativa migliore. È una novità, è una nuova sezione che è nata all'interno del servizio di polizia scientifica appunto la sezione di ricostruzione 3D e realtà virtuale perché noi in realtà all'interno del nuovo laboratorio realizziamo sia modelli 3D dove collocare tutti i reperti presenti, repertati nel corso del primo sopralluogo e quindi cristallizzare il sopralluogo. Però noi abbiamo anche un'elaborazione di realtà virtuale possiamo riprodurre le scene del crimine immergendoci proprio all'interno del teatro all'interno del teatro dell'evento criminoso indossando dei caschi Oculus che ci immergono completamente all'interno della scena e ogni operatore può rivisitare tutti i luoghi e vedere le cose di più interesse. Noi riponiamo all'interno del modello, che viene sempre comunque realizzato, gli oggetti repertati e effettuiamo alcuni esperimenti e verifichiamo alcune considerazioni di natura svolte in fase di indagine.